ciao giovani siamo al tramonto solito spot come vedete però con un approccio diverso nel senso che oggi userò un pasturatore da bigattini per riempirlo di questa pastura a base di farina di pesce e al gambero ovviamente l'esca sarà il gamberetto mangiatina in diretta siamo col gambero surgelato inaspettata questa mangiata inaspettata luna piena testatone attenzione io gli ammollo l'acqua secondo me è un sarabo la mega occhiata un occhiatina il gambero congelato occhiata di mezzo chilo ho capito guardate che bella occhiata ciao ciao Grazie a tutti